Le donne, seduci le donne con la tecnica efficace di seduzione passiva. Una strategia utile per seduare le donne, una strategia molto efficace per seduare le donne è la tecnica di seduzione passiva. Che cos'è la seduzione passiva? Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Terramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E ti ricordo che se vuoi fare donazione al canale sono ben accette. Vediamo che cos'è la tecnica di seduzione passiva per seduare una donna. Allora, per capire il verso dobbiamo capire l'inverso. In questo caso la seduzione passiva è, possiamo definire, la seduzione inversa. Allora, il verso della seduzione qual è? È il maschio che in qualche modo manifesta interesse verso la donna, la corteggia, la invita. Ci sono quelli sfigati che fanno i cavalieri serventi, che la scarrozzano avanti e indietro, la portano di qua, di là. Sono sempre lì, pronti, a disposizione, disponibili. Ecco, tutto questo, diciamo, può funzionare sicuramente. Ci sono alcune donne che la danno quando ne ricevono, diciamo, dei complimenti di questo tipo. Sicuramente questo è un fattore, non sto dicendo che le donne non la danno, diciamo, quando sono comunque coinvolte da un corteggiamento, che talvolta è anche un corteggiamento proprio attivo, dove l'uomo impiega tante energie, da fiori, manda fiori, rose rosse, insomma, cose di questo genere. Ecco, questo corteggiamento sicuramente può funzionare in alcuni casi. Non funziona in tutti i casi e comunque, insomma, tu ti fai vedere da subito, dimostri che hai un interesse nei tuoi confronti. Per carità, non è detto che questo interesse sia reale, ci sono uomini che, come dire, ne corteggiano 10 in parallelo, allo stesso modo. È una tattica che però non sempre funziona e poi è molto dispendiosa di energie, cioè tu devi dedicare molte energie. E metti una donna, la metti un po' sul piedistallo, no? La metti sul fatto di poterti scegliere, sa che tu sei interessato e quindi potenzialmente ti può tenere in stand-by perché non sente l'urgenza, no? Cioè il problema è che non sente l'urgenza. Non sei una merce deperibile, diciamo così. Sei sempre lì a disposizione, no? Quindi non sente l'urgenza di iniziare le cose, ti tiene lì nel tuo brodo e tanto flerta con altri, vedi se conosce qualcun altro di più interessante di te, tanto sa che tu ci sei perché tu continui a corteggiare, eccetera, eccetera. Interessante sarebbe poi smettere di farlo, perché allora, come dire, scatta l'urgenza, scatta la scarsità, no? Il principio di scarsità. Quindi se tu inizi a sedurre e vedi che non dai risultati, smetti di farlo, questo potrebbe essere una buona tattica. Ma c'è un'altra tattica che invece funziona molto bene, funziona molto bene ed è la seduzione passiva, che sarebbe l'inverso. La seduzione passiva qual è? Beh, è quella in cui tu sicuramente ti devi manifestare nei confronti o no, cioè devi sapere che esisti. Devi sapere che esisti, ti manifesti, interagisci con lei, ma poi di fatto non fai niente, cioè non fai niente. Magari parli con lei, parli con altre, non, cioè fai vedere, e questo è molto importante, di cercare di far scattare il meccanismo di preselezione, no? Cioè lei deve vedere che sei un uomo comunque interessante, quindi devi manifestarti come un uomo interessante, perché se ti manifesti come catramista, casso integrato, senza fissa dimora, allora non c'è seduzione passiva che tenga, questo non funziona, non porta nessun risultato. Se invece ti manifesti come una persona, un uomo di valore, un uomo di qualità, un uomo di successo, un uomo affermato, un uomo che piace ad altre donne, quindi magari se ti scambi il profilo Facebook, riesci a farti percepire come un uomo veramente di qualità, come un uomo di valore. Ecco, questo è molto importante, perché se tu riesci a fare questo, otterrai subito dei grandi risultati. Questo è importante. Se tu riesci a ottenere dei risultati, da questo punto di vista è davvero importante, davvero fondamentale. Per ottenere questo, cosa devi fare? Beh, utilizzando i social, se hai un contatto con lei, devi crearti comunque una sorta di aren, tra virgolette, cioè donna interessata a te. Per questo, come farlo? Beh, interagisci su più livelli con tante donne, no? Interagisci con tante donne, avrai comunque un serbatoio. Bisogna utilizzare proprio il principio del network. Conoscere tante donne è abbastanza semplice. Io te l'ho detto, non è che serve molto poi. Basta che ti fai un giro al supermercato, perché poi l'approccio deve durare tre minuti con una donna, non deve durare di più. Basta che dici una frase che io suggerisco, quella di mettere fretta, no? Ad esempio, le dici tranquillamente, ah, ciao, guarda, sono un po' di fretta perché ho una riunione molto importante a cui devo andare, però non potevo, vedendoti, perdere l'occasione di presentarmi. Mi piacere, mi chiamo Massimo, se voi ci scambiamo il contatto Facebook, e quindi tanto il contatto Facebook te lo danno, Facebook o Instagram, perché dipende un po' dall'età, Facebook, Instagram, TikTok, insomma dipende un po' dall'età. Tu devi creati comunque un profilo, dei profili di qualità, dove emerge che sei una persona di valore, di qualità, un uomo di qualità, eccetera, e scambi subito il profilo. Così avrai, se non altro, avrai delle donne che ti seguiranno, avrai delle donne, se tu metti delle cose intelligenti, che ti metteranno dei like, e quindi poi quando incontri quella che magari ti piace, appunto non dimostri anche indirettamente, o te lo dimostreranno le altre, che sei un uomo di valore, e tu nei suoi confronti non fai niente. Cioè parli, sei gentile, ma non le inviti mai da nessuna parte. Ecco questa è una seduzione passiva, e tu puoi farla anche con dieci donne in parallelo, perché se tu vai in una festa, o in un, ma neanche una festa, un incontro tra amici, tra amici, eccetera, eccetera, beh tutte e dieci saranno potenzialmente interessate a te, perché tu non sarai, diciamo, non ti focalizzerai su una, parlerai con tutte senza dimostrare un vero interesse per nessuna, le tratterai tutte da amiche, e quindi scatenerai anche la competizione un po' tra loro, perché le donne vivono anche la competizione tra loro, una dirà, ma quale, ma sarà più interessata a me, sarà interessata a quell'altra, e tu ti dimostri, come dire, associvole, un uomo di qualità, un uomo di valore, un uomo a cui piacciono le donne, perché fai passare questo segnale, perché oggi ci sono anche, come dire, situazioni in cui magari possono pensare che non mi piacciono le donne, quindi fai passare il segnale che le donne ti piacciono, e poi interagisci con tutte, e vedi quello che succede, vedrai che senza fare niente, tante, come dire, pescioline, che resteranno imbrigliate nella rete, e te le porterai a casa, senza dedicare troppe energie. Bene, per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Trammasco Ufficiale, seguimi su TikTok, e su tutti i miei canali YouTube. Ti ricordo di iscriverti al canale, attivando la campanella, perché se attiverai la campanella, potrai ricevere le notifiche dei nuovi video, e ovviamente puoi fare donazione al canale, tutto quello che vuoi, e mi raccomando la campanella, ricordati per i video.